Per capire chi sceglie per primo, facciamo un piccolo quiz. No, 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 no. Abbiamo detto che tutti giocano a paddle, no? Sì. Soprattutto personaggi dello sport, VIP, chefs. Io adesso vi dirò dei nomi e voi dovete dirmi se giocano a paddle o no. Iginio Massari, gioca a paddle o no? Ma dico sì, dai. Cassandra? No, io dico di no. Ce lo vedo un sacco. Esce dalla pasticceria e si prenota il centro paddle con gli amici. Adesso ti faccio vedere io come faccio di rovescio, di vetto. Io ce lo vedo, ce lo vedo.